ok volevo dirvi che volevo costruire diciamo una postazione da gaming perché dico gaming tra virgolette perché sapete che io non sono un grandissimo videogiocatore ma anche perché non è una cosa che mi piace tanto però abbiamo deciso di aprire un canale di videogiochi dove però giochiamo poco cioè adesso registriamo il video e lo carichiamo sabato ovviamente non posso utilizzare lui perché lui non è un computer da gaming cioè si è un computer da gaming ma non ho il doppio schermo è un bordello della postazione che volevo però la volevo mettere adesso faccio vedere con la fotocamera in carica volevo metterla in questo piano qui libero qui toglierò tutto la tv l'ho messa qui il cavo di alimentazione l'ho tolto perché la tv non verrà utilizzata quindi l'ho messa qua qui c'entrerà il monitor qua c'è una ciabatta per collegare tutto e lì magari il pc fix ma vedo un po' cosa posso fare chiaramente forse metterò due schermi non lo so dato che giocheremo presente sulla minecraft per questo ho deciso di utilizzare il mio pc fix che non è potentissimo ed è proprio per questo motivo che non ho deciso di venderlo per la fotocamera non c'è nessun problema perché utilizzo la mia fantastica cafunco al 4k che alla fine il segnale che viene buttato all'interno del pc è veramente buono potete vederlo voi stessi ad esempio il video della reazione è stato registrato con questa fotocamera qui è veramente buonissimo non lo so perché ma il segnale del computer è molto molto migliore rispetto a questo segnale qui cioè è fantastico adesso aspetto da me che dobbiamo montare un video che è il primo video che è stato registrato da lui però lo montiamo e lo carichiamo su questo canale gaming che quando lo creeremo metterò il link in descrizione che questo video probabilmente uscirà non lo so ma vedo un po' ma il fatto è proprio per questo motivo nel senso che quello che voglio fare io è un setup minimal quindi non con troppa roba dove però andrò a mettere il mio pc fisso primo schermo che sta là dentro e il secondo schermo che sta di là e la webcam no perché tengo questo qui tastiere mouse e alla fine sono 3 fili per l'alimentazione e 2 buttati all'interno del computer anzi 3 perché c'è questa fotocamera però chiaramente quel filo rimarrà fisso poi però per il microfono non c'è problema sapete perché ho questo qui questo è stato veramente il microfono che utilizzavo con la mia cofungle che questo qua ce l'ha il coso per i cavalletti quindi si può avvitare questo qui si può perché questo microfono è anche per cosi in tal caso però forse non voglio fare tutto questo bordello quindi finché non mi arriverà un microfono nuovo che ho ordinato per il compleanno che costa 30 euro non costa neanche tanto fermi tutti mi sta chiamando qualcuno aspettate dato che quello che voi vedrete quando io registerò un video questo è quello che vedrete giocherò ci saranno gli schermi davanti e tutto funziona adesso bisogna montare tutto quindi aspetto Daniele e ci sentiamo direttamente tutto allora procediamo i lavori con lui stiamo facendo un attimo un setup che potrebbe servirmi abbiamo messo il pc questo la schermi qua secondo noi il pc l'abbiamo messo tipo qua sopra no 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 posso fare questo schermo? no due schermi mi servono allora sono le 17 e 20 oddio per la prima volta la fotocamera riprende l'orario non è la prima volta non mi è mai successo raga è assurdo allora adesso procediamo con i lavori serve un attimo allora qua c'è il mio pc portatore che sta scaricando il video che è del nostro primo canale che ha registrato con il suo pc vedete questa tampa poi però abbiamo anche qua dietro già collegato tastiera e alimentazione assistente mi serve un mouse tra l'altro sto registrando con un microfono ma non lo so se va c'è lo so qui andiamo un attimo a vedere se troviamo un mouse intanto ragazzi vi aggiornamento anche sto già vendendo un po' di roba ci ho già fatto un video che poi vedrete in futuro di tutto quello che venderò e tutto quello che c'è da sapere forse sta qua dentro forse no niente si perdono le cose in questa casa lo sapete? non so se aspetta 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 ma è così corto il canale a un anno di distanza dalla nostra conoscenza stiamo creando il nostro primo setup che servirà semplicemente per il canale di videogiochi accendiamo appicciamo? non c'è alimentazione ah no degli schermi no aspettate appicciamo e poi questo video termina questo è il primo schema oddio c'è la cosa l'adattatore perchè non me l'hai data un miseria non me l'hai messa cosa cosa? sembrava che qualche giorno fa e via eh tieni no no fra l'armare l'ha comprata ah lol ok questo è un altro cavo bugia ok metti questo aspettate no aspettate Luca un cavo alla volta Chris usiamo qui allora ci siete allora assistiamo al nostro montaggio Luca ma per questo è un cavo uguale la bugia verrà più grande? la display board la display board allora vedete che tu ce l'hai? si è questo qui? eh sì si è il display board allora bisogna se dico display board metta questo la scheda video non serve a niente in questo momento vabbè la gt710 che può fare? eh è uno schifo dammi un attimo sta roba mi sei seduta su no non mi sei seduta su allora finalmente riproverò il prezzo e giocare sotto pc a me piaceva un sacco quel pc eh no no si è comprato quello la minchia con la gt71050 1.5.9 generazione 16 gigabyte di ram al costo di soli 700 euro e addirittura quello lì con 8 giga di ram mi sei seduta una relazione la mx costa 200 euro di più ah allora ho pagato la mano la mano in pattuglia bella 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 hai già si chi sabe non ho pagato la mano in pattuglia questo mi piace fare con gli amiri ma in generale io adoro fare io adoro fare set up aspetta ho bisogno di due mani ah aspetta 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 l governo aspetta 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 część faccio aspetta f r Glove aspetta aspetta sionate all'acqua aspetta aspetta sui fi BIMÍD »FOL bacteriasi conditano sui fi D都i aspetta 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 si dà la mia państwa magiciania E se si vedono, si vedono dietro una schiena mia Io tra l'altro l'ho fatto apposta, vi faccio vedere Ho fatto così Si, gira un attimo Perché la cucina è un po' così Mi sento tutta la schiena Ok, ok, entra Gira tra le vittime, ti prego La fotocamera è scarica Ci rivediamo direttamente dopo Ragazzi, tutto è collegato Siamo pronti Adesso prova 3, 2, 1 È partito È partito tutto È partito tutto È partito tutto Attenzione Schermi Schermi, vi prego Vi prego, schermi 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 Schermi, vi voglio bene Schermi, no Non posso, non posso essersi rotti No, vi prego No Vi prego Ma forse non l'ho collegato bene, è una cosa No, bravo, questa è ancora mia Ok, questo è ancora mia Ok, questo è ancora Ok, questo è ancora Si è acceso, il primo si è acceso Il primo schermo si è acceso Madonna, guardate il pc Guarda che non l'accendo No E tra l'altro mai è una zona dove passa più aria Quindi dovrei giocare meglio in teoria adesso Tecnicamente Facemi accendere la luce Guarda questo qua non si accende È un attimo Ma non si accende Windows No, no, no Vi prego Windows si è avviato Windows si è avviato Windows non si è avviato Io spero si avvii tutto Windows, Windows L'altro è collegato bene E guarda sul pc No, no, no Bisogna andare all'imposizione di schermo dell'anvidia Oddio Oddio tutti gli schermi Oddio tutti gli schermi Aspetta Fatemi impostare tutto Aspetta Aspetta No ancora si sta avviando Non ci credo È schifo quanto ci mette Oh mio Dio tutti i miei programmi No vabbè Abbiamo ridato vita Guarda dei vecchi vlog Dei vecchi vlog I te I miei vecchi video Quelli che feci anni la Aspetta Aspetta Io giocherò su questo schermo E lì c'è una OPS Perché questo è un po' più Non lo so lo vedo un po' più buono Non lo so lo vedo un po' più buono Non lo so lo vedo un po' più buono Oddio ragazzi È partito Ce l'abbiamo fatta Oddio Oddio Cos'è? Cos'è? Ma che versione di cosa c'hai? Di X Di Winrar c'hai? No lo so La versione è vecchissima E' il 2008 Eh ma da madre Ma cosa c'è? Che significhe grafici? Eh lo so Non lo so perché Ma hai un po' Oh ma no ma già è postato tutto bene No no però dobbiamo Vedi quanto è schiacciato Dobbiamo sistemare questo posto Ah vabbò sì Abbiamo un po' Non so perché cosa è schiacciato Eppure ho messo la bugia Ah ma perché forse la bugia non è collegata bene No però ma la cosa è la pubblicazione in video Io sono veramente contento Sono emozionata perché Non do vita A questo computer Da marzo E si vede Eh lo so Guarda quanto cavolo è schiacciato Cioè sono quasi da un minuto Non c'è ancora privato Sì allora io volevo fare però Come sta la ventolina con la verde? Per raffreddare un po' Non c'è ancora 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 Prendere un po' Allora Oh mio Dio il filo Vediamo che ci sta Si vado a piatto Tentolina Ragazzi ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Incredibile Da me e da Daniele Dato che la batteria è scarica È tutto Noi ci vediamo nel prossimo video Non lo so quando sarà lì mio Ci vediamo direttamente sul canale di gaming E poi ci vediamo sul canale tecnologico Che apriremo più avanti Per fare un montaggio PC Avremo un sacco di idee Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi